La sindaca di Spoltore, Chiara Trulli, si appella alla ragionevolezza e all'unità nel dibattito politico che sta accompagnando il percorso burocratico per la nascita della nuova Pescara. Entro il 30 agosto dovrà essere presentato il nuovo statuto che dovrà trovare il beneplacito di tutti e tre i comuni dell'area metropolitana, chiamati alla fusione, nel corso della riunione dell'Assemblea Costitutiva prevista per il 4 settembre. Ma il disaccordo su alcune questioni legate al nome della nuova città e al numero dei consiglieri nella cosiddetta vicenda del mercato delle poltrone rischia di far saltare il banco e di rimettere tutto in discussione con il pericolo di far naufragare anche il progetto delle municipalità che per la sindaca Trulli non sono poltronifici ma presidi territoriali di garanzia per il cittadino. Quello che ci sta primariamente a cuore è l'articolazione in municipi della nuova Pescara perché siamo assolutamente convinti che solo con un'articolazione per municipi si possa continuare a garantire una rappresentanza a tutti i territori e soprattutto quella capacità di erogare servizi di qualità ed efficienti al cittadino. Ed è questo quello che deve stare a cuore nel processo di fusione cioè che all'esito dell'istituzione della nuova città non ci sia un disorientamento per il cittadino ma che ci possano essere servizi di qualità Ancora più e ancora meglio di quello che riusciamo a fare oggi. Questa sarà la grande sfida. Auspico una convergenza, posizioni conciliative. Non dobbiamo fare una battaglia ma dobbiamo arrivare a definire quegli aspetti sui quali si può trovare un accordo Perché quello che ci sta a cuore è soprattutto la capacità di dare risposte al cittadino all'indomani della fusione. C'è un'altra questione su cui si sta discutendo, quello che è stato definito il mercato delle poltrone che riguarderà le giunte delle varie municipalità. Qual è la posizione del Comune di Spoltore? Faccio presente che in Commissione Statuto la proposta di elevare a 24 i consiglieri è pervenuta anche da parti del centrodestra pescarese. Quindi non è stata una questione legata ai componenti della Commissione di Spoltore e Montesilvano o almeno solo di quelli. Nel tornare a sederci al tavolo dei consiglieri si discuterà anche del problema delle giunte che nacquero in seno alla Commissione Statuto come ruoli per affiancare il presidente del municipio a figure che comunque compongano la giunta per la gestione ottimale dei servizi municipali. Ora anche su questo sediamoci, discutiamo, noi non vogliamo il poltronificio, cioè Spoltore non interessa il poltronificio, a noi ci interessa solo fare le cose per bene, tutto qua.